My home, my destiny, due anticipazioni. 20 luglio 2024. Zeynep triste e gelosa, Emine prova a consolarla. Zeynep inizia un nuovo capitolo della sua vita, ma il dolore per la fine del matrimonio la segue ancora. Mehdi decide di mettere in vendita l'officina e consegna il ricavato alle sorelle. Un gesto generoso, carico di emozioni e ricordi. Benal confessa a Mehdi che vorrebbe vivere con lui e crescere insieme la loro figlia. Quale sarà la risposta di Mehdi? Zeynep, Sakine, Emine, Sultan e Nermin si sono trasferite nella loro nuova casa e sembrano felici di iniziare questo nuovo capitolo della loro vita. Tuttavia, l'avvocato è ancora molto giù di morale per la fine del suo matrimonio.